Un anno intero a Feltre per studiare gli ottocenteschi materiali di scena del Teatro della Sena. Protagonisti dell'iniziativa scientifica di respiro europeo saranno alcuni studenti della Hochschule der Künste Bern. L'Università di Bern ha infatti sottoscritto una convenzione con l'amministrazione comunale di Feltre nell'ambito dello studio più generale, condotto dalla medesima Università della Scenografia Italiana del Primo Ottocento. Si avvia un percorso di studio con l'Università, con dei ragazzi che loggeranno qui per tutto un anno, sui materiali storici del Teatro della Sena. Il Teatro della Sena è uno dei pochi teatri europei che conserva ancora tutti i macchinari storici dell'Ottocento e anche per questo e anche in funzione di questa convenzione stiamo cercando di attivarsi per avviare il restauro dei materiali più significativi. Fra questi sicuramente il Sipario, che è un Sipario importantissimo di Tranquillo Orsi, lo stesso decoratore della Finicia Venezia ed è anche l'unico rimasto. Quindi ci stiamo attivando anche per aprire questo fronte sul campo culturale perché vorrebbe dire valorizzare ulteriormente e direi a sto punto definitivamente il Teatro della Sena come luogo di prestigio della cultura feltrina. L'obiettivo del progetto? L'elaborazione di una base documentaria e scientifica per la catalogazione, lo studio, il restauro, il completamento e il riutilizzo funzionale del materiale scenico originale. Quintessi pari o fondali meccanismi in legno rinvenuti nel Teatro della Sena risalenti ai primi decenni dell'Ottocento. Saranno poi studiati tanto la storia del teatro quanto l'apparato decorativo ed iconografico presente negli ambienti destinati al pubblico. Il Comune di Feltre metterà a disposizione i locali per lo studio del materiale scenico, mentre l'Università sosterrà tutte le spese relative al trasporto, vitto e alloggio del gruppo di ricercatori, nonché i costi per la riproduzione del materiale documentale e fotografico.